Videolettera per l'On. Raffaele Fitto. Caro Ministro, io lo so che tu hai un antico amore per il nucleare, lo so perché conosco le tue opinioni, le tue idee, poi ci sono anche le prove. Vedo qui questo giornale che tu conosci, si chiama Libero, del 24 settembre 2008, c'è una tua fotografia, abbastanza giovane, e c'è un titolo fitto, la nostra regione, cioè la Puglia, pronta al nucleare. Francamente non so per quale ragione tu ti sia sentito in diritto di parlare a nome della regione Puglia, non solo perché non sei più il presidente di questa regione, ma perché forse non hai più confidenza con i sentimenti dei pugliesi. I pugliesi sono radicalmente, visceralmente, emozionalmente, razionalmente contrari alle centrali nucleari, perché le centrali nucleari sono la prosecuzione di una storia che è finita, che è giunta al capolinea, di quella storia per la quale noi meridionali, pur di avere uno straccio di lavoro, dovevamo subire qualunque modello di industrializzazione, dovevamo bere qualunque tipo di veleno, e noi che siamo diventati esperti di malattie e morte legate all'amianto piuttosto che alla diossina, difficilmente potremo ambientarci all'idea di avere a casa nostra la radioattività. Le scorie nucleari hanno una vita di decine di migliaia di anni e questo rappresenta un'ipoteca anche per le future generazioni. Non solo è un danno ai pugliesi di oggi, è un danno ai pugliesi che verranno. Mi pare davvero si tratti di una forzatura. La regione Puglia ha voluto una legge chiara, semplice, votata da tutti i gruppi politici che dice noi qui non vogliamo né scorie né atomi, non vogliamo le centrali, non vogliamo i depositi dei rifiuti radioattivi. È una legge semplice, l'ha votata anche il tuo partito. Eppure tu a Roma quella legge l'hai impugnata, l'hai portata di fronte alla Corte Costituzionale, ha invocato la Costituzione, quella che nei giorni pari eppure nei giorni dispari il centro-destra bombarda continuamente cercando di delegittimarla. No, nella Costituzione c'è la tutela per esempio della salute pubblica, nella Costituzione c'è l'invito a rispettare profondamente la natura, i nostri ecosistemi e prima della Costituzione ci sono leggi fondative della nostra civiltà, quelle scritte per esempio nei testi sacri, per esempio il comandamento di custodire la terra che è scritto addirittura nel libro della Genesi. Come si fa, Ministro Fitto? Proprio tu che hai lavorato tanto al federalismo a immaginare che i territori debbano essere privati del potere di decidere sul proprio destino, sul proprio futuro. Come si fa a imporre alla Puglia cose che sono terribili, le piattaforme petrolifere, i rigassificatori, nuove gigantesche opere di raffinazione del petrolio e poi il nucleare. Noi non possiamo essere d'accordo con te, ci ribelliamo a questa scelta, ti chiediamo semplicemente questo, di ripensarci, tu, la destra, il governo, dovete avere l'umiltà di fare un passo indietro e comunque dovete sapere che il popolo pugliese è disposto a fare subito un passo in avanti per difendere la propria vita e le proprie ragioni.